E' iniziata ufficialmente l'attività della Polizia Locale della Città Metropolitana di Torino. Nella sede di Corso Inghilterra sono stati riconosciuti i nuovi profili professionali degli appartenenti al Corpo, il cui iter di Costituzione era stato avviato due anni orsono con l'approvazione all'unanimità del regolamento da parte del Consiglio Metropolitano. L'iter si è concluso nelle settimane scorse dopo una serie di incontri di approfondimento richiesti dalla Regione Piemonte. E' quindi ufficiale l'inquadramento nei ruoli della Polizia Locale per 19 dei dipendenti della Città Metropolitana in avvalimento regionale dotati della qualifica di agente o di ufficiale di Polizia Giudiziaria e o di agente di pubblica sicurezza, i quali svolgevano funzioni non fondamentali di Polizia Amministrativa Locale con il prevalente profilo di agente faunistico ambientale. Alla cerimonia di riconoscimento del profilo, che si è conclusa con la consegna delle pergamene agli agenti, hanno partecipato alcuni membri del Consiglio Metropolitano uscente. Tra i numerosi compiti esercitati dal Corpo di Polizia Locale della Città Metropolitana vi sono le iniziative di educazione ambientale rivolte alla cittadinanza, la prevenzione, il contrasto, la repressione dei comportamenti previsti e puniti da leggi, regolamenti e disposizioni che riguardano la tutela e valorizzazione dell'ambiente, la vigilanza sull'esercizio della caccia e della pesca, i controlli inerenti alla fauna selvatica e gli animali da affezione, la vigilanza sulla raccolta dei funghi, sulla raccolta dei minerali, sull'assetto forestale, sul patrimonio escursionistico, sulla sicurezza degli esporti montani, i controlli di polizia idraulica e quelli di polizia stradale sulla viabilità metropolitana.